Io ho voluto insistere sul concetto di diversità come elemento naturale e ho cercato di raccontarlo in musica attraverso un testo che includesse tutte le sfaccettature della diversità. Quindi la diversità è un elemento naturale che bisogna valorizzare, così come valorizzare i tulipani, i tulipani di seta nera che sono il simbolo di questo festival, sono dei fiori rari ma per questo anche molto coraggiosi. Quindi io sono contenta e onorata di partecipare a questo festival e di poter raccontare attraverso la mia arte quello che poi vedo e vivo tutti i giorni perché ho un rapporto anche quotidiano con la diversità essendo un artista ma credo che la diversità esista, vada riconosciuta, rappresentata e custodita in questo film. È una cosa che riguarda sempre il cinema e lo spettacolo perché il cuore di questo festival sono dei film, dei cortometraggi che servono a mettere in evidenza la solidarietà, la lotta alle diversità eccetera. Quindi è un'ottima finalità, produce dei bei film perché poi tutti si impegnano su questi film e quindi fanno dei film molto belli, vedrete anche stasera quello che ha vinto ma anche gli altri. e quindi insomma è una volta tanto che in Cina si rende utile e mi fa piacere. Dobbiamo parlare di diversità ma di unicità perché siamo tutti degli esseri unici con le nostre particolarità e le nostre peculiarità. A volte quando uno stai bene dici mi sento strano, perché non diverso da come ero ieri? È un concetto diverso, ma è proprio questa cosa, proprio ieri quando vedevo dei corti che sono in concorso, ho detto io a volte mi sento strano, magari ho immaginato perché non diverso? Ecco, forse se coniugassimo questa parola, il concetto di stranezza e non di diversità, forse saremmo tutti diversi. Il messaggio che dovrebbe uscire da questo festival è quello di capire che fondamentalmente la diversità non deve essere vista come una minaccia, ma deve essere vista come una grande risorsa, come una grande opportunità per relazionarsi con le persone, come un'opportunità di crescita, un'opportunità anche di scoperta di altre realtà. È bello che ci siano delle differenze perché le differenze ci rendono unici, ci rendono speciali, ognuno di noi ha sicuramente delle capacità, ha un grande potere, basta solo saper credere in se stessi che la cosa fondamentale che deve emergere anche da questo festival è il rispetto, il rispetto tra le persone, di quello che oggi manca molto spesso e quindi anche scollarsi di dosso ogni forma di pregiudizio. La diversità è apparentemente una cosa triste, invece in realtà quando si entra conoscendolo un pochettino meglio si parla una grande storia di coraggio, grandi storia di divinità, grandi storia di voglia di vivere. Per cui credo che il mondo dello spettacolo deve stare molto vicino alle persone diverse, perché sono le persone che hanno più bisogno di guardare il mondo, non trovandolo così brutto, come spesso possono pensare. Il cinema è una consolazione e le persone diverse sono nel mio cuore veramente al centro. Io ho avuto un figlio nella mia vita tanto malato e so di cosa stiamo parlando. Per cui sono molto vicino e questo premio lo considero quasi più importante del nastro d'argento, che avevo ricevuto un po' più tempo fa. Non esiste diversità, esiste soltanto uno stato d'animo e un occhio diverso verso l'altro. Ognuno di noi è diverso dall'altro, ognuno di noi porta con sé una grande diversità. In realtà ci sono poi delle malattie, delle patologie, che necessitano chiaramente di una diagnosi precoce, ma soprattutto di una ricerca. Quindi un festival come questo, che mette in evidenza quelle che sono le tematiche patologiche, le malattie, è estremamente importante perché sensibilizza, non è pubblica, ma soprattutto sensibilizza anche le case farmaceutiche. Beh, che siamo tutti uguali, come queste dita di questa mano. C'è il pollice, c'è il mignolo, c'è il medio, tutte diverse ma tutte uguali. E insieme fanno una mano. Questi sono gli esseri umani. Accorciamo le distanze, abbracciamo le differenze, perché conosce la nuova realtà è il vero atto di libertà. Maestro Eccidentola, grazie e buonasera a tutti.